Modificando l'importo del versamento sul modello F24, una commercialista riminese è riuscita dal 2006 a frodare moltissimi clienti. La donna è stata arrestata venerdì mattina. Le indagini, coordinate dalla dottoressa Gemma Gualdi e dal comando della Compagnia di Rimini della Guardia di Finanza, hanno permesso di appurare che la commercialista era solita stornare a suo favore il saldo del pagamento delle tasse. Questa mattina il comando Compagnia, comandato dal capitano Mariella, ha eseguito un ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti di un commercialista di Rimini, di origini riminese, con uno studio da commercialista qui in Rimini, in pieno centro, che aveva negli anni dal 2006 al 2011 truffato i propri clienti per circa 87 mila euro. La commercialista era già stata indagata nel 2010 per una questione analoga, vittima delle sue truffe alcuni clienti cinesi, per circa 45 mila euro. La donna si trova in carcere con l'accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato e appropriazione in debita.